Ancora le amministrative, ascoltiamo adesso il coordinatore provinciale d'Italia dei Valori Nello Amel che rilancia la candidatura a sindaco di Giampiero Carta e la lista a Grigento Bene Comune insieme a Sinistra Ecologia e Libertà e Federazione della Sinistra. L'intervista dunque a Nello Amel e alla candidata in lista Brigida Pullara, Lena. Ad Agrigento, sempre più campagna elettorale, Nello Amel per il candidato sindaco Giampiero Carta. Tutti insieme la lista Grigento Bene Comune con Sinistra Ecologia e Libertà, Federazione della Sinistra e Italia dei Valori. Sì, oltre questo anche movimenti vari, movimenti di persone che hanno sollecitato problemi nella città di Grigento e si sono aggregati a noi. Sta nascendo una lista molto bella, una lista fatta di persone per bene, una lista fatta di persone credibili, con passione che si vogliono spendere per cercare di cambiare questa città. Io sarò candidato, ma ci saranno insieme a me, oltre che Lillo Miciche, tutta una serie di candidati di ottimo spessore, molte donne, molte ragazze, molti giovani, professionisti, gente che ha deciso di spendersi in prima persona senza nessun interesse, solo e soltanto per dare un contributo di passione, di coinvolgimento, di battaglia per consentire alla lista Grigento Bene Comune di raggiungere il risultato del 5%, ma noi pensiamo di arrivare a percentuali molto molto più alte. Ecco la lista Grigento Bene Comune, una numerosa presenza giovanile e soprattutto anche di donne, Brigida Lena Pullara. Brigida Pullara Lena, io ho accettato questa proposta di candidarmi, ringrazio Nello Amel e Lillo Miciche, e ovviamente credo in questo progetto di Grigento Bene Comune a sostegno del candidato sindaco Giambiero Carta. Sono già conosciuta per la mia battaglia per il mare pulito e ovviamente oggi io sono qui non soltanto per il mare pulito, ma perché voglio continuare questa battaglia in cui credo fortemente, ma anche perché non bisogna soltanto lengare le cose che non vanno, ma bisogna mettere un po' di coraggio, io voglio esserci, proprio perché chi mi conosce sa che ho molto coraggio e chi mi conosce sa che sono sempre stata molto lontana dagli organismi partitici, ma molto vicina invece e con passione alla politica, nel suo più alto valore nobile che è quello senza intenti e per il bene comune. In questa battaglia io ho avuto a me vicine altre tante donne, come per esempio Marcella Carlisi, anche lei candidata al Consiglio Comunale, Angela Musumeci che è a sostegno di operativa per questa grande lista e in cui appunto crediamo. Quindi oggi come donne protagoniste all'interno di un Consiglio Comunale perché si lavori per un Grigento più accogliente, un Grigento accogliente per i bambini, per gli anziani, per le famiglie e soprattutto contro il pregiudizio sociale e lo stigma per non cadere noi stessi diciamo in tal errore.